la femmina germano reale anatre e questo maschio tre papere stanno mandando via la coppia germano reale stanno mangiando il pane arrivano altre anatre probabilmente si azzuffano hanno mandato via le pepere tollo ritornando le pepere ritornate le altre due anatre e hanno mandato via le pepere un altro incrocio di anatre guardate che bella quella liniere mangiate un po di pane sta bevendo stanno ritornando quando giro le pepere hanno paura le altre due sono più forti ecco le stanno mandando la coppia sotto la pioggia